Un anno di reclusione e pena sospesa è la condanna che la Corte di Appello di Campobasso ha inflitto a un uomo di un paese alle porte del capoluogo per stalking aggravato nei confronti della ex nuora e delle nipoti minorenni. A leggere la sentenza il presidente Vincenzo Pupilella, ribaltato dunque il verdetto di primo grado nel quale l'imputato era stato assolto per l'applicazione di una causa di non punibilità. La Procura Generale, nelle conclusioni dell'ex PG Mario Pinelli, ha chiesto la condanna. La difesa voleva la conferma della soluzione. Il processo si è svolto in Camera di Consiglio, essendo rito abbreviato. L'uomo condannato era accusato di essersi reso responsabile per anni di minacce anche di morte e altre iniziative aggressive nei confronti della ex nuora, in particolare quando la incontrava negli spazi comuni della casa in quanto abitavano nello stesso palazzo. Temendo per la propria incolumità e per quella delle figlie, la donna è stata costretta a lasciare l'abitazione denunciando i fatti alla Procura di Campobasso. Per l'accusa tutto era nato dalla mancata accettazione da parte dell'uomo ora condannato dell'assegnazione della casa coniugale alla ex nuora con le figlie minori dopo il divorzio col marito. In seguito alla denuncia e alle indagini per l'imputato fu disposto il divieto di dimora nel comune di residenza e di avvicinamento alle persone offese. A rappresentare queste ultime l'avvocato Massimiliano di Grezia, soddisfatto della sentenza. È una sentenza che dà da un punto di vista giuridico soddisfazione perché l'iter era stata abbastanza difficile. Veniamo da una sentenza di assoluzione per una causa in impunibilità fortemente impugnata sia dalla Procura della Repubblica sia da me come procuratore delle parti civili. La soddisfazione è su questo. È una vicenda nella quale la sofferenza c'è stata, c'è tuttora ed è stata tanta. Però ad oggi la Corte d'Appello credo abbia ristabilito un corretto punto giuridico sulla questione.